Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in una nuova puntata di Metal Gear Come potete vedere siamo alla missione successiva, cioè dobbiamo salvare il tizio Io ho già scansionato un po' la zona e devo dire che è davvero pericolosissima In quanto ci sono davvero tanti nemici e non so davvero come possa andare a finire questa missione Tra l'altro praticamente ho finito il silenziatore, giusto? Eh Ci sono allertati Bene Come iniziare una missione al migliore dei modi Che è sta cosa che luccica? Ok Cerchiamo di avvicinarci il più possibile e poi facciamo i grandi culi ragazzi Aspettiamo che quella guardia magari se ne va via E poi spariamo Non credo che se ne vada via però Ci possiamo provare Ok se ne sta andando via Possiamo anche prendere un po' di mira Pensavo fosse più semplice sinceramente ragazzi Ok Ok Mi hanno visto Fama diminuita Vaffanculo Beh perlomeno adesso andranno tutti là Ma mi vedono Chissà se stanno venendo tantissimo da me Ho paura ragazzi Ok ragazzi Mi era venuto un colpo Pensavo non stessi registrando Non lo so se mi vedono Ma io vado ragazzi Perché tanto stare ferma non è che mi fa venire Che cazzo fai snake mi fai prendere i colpi Guardate quell'altro che non ho pingato Che poi ci può fare Davvero un menso incredibile Ok possiamo da questa parte Ok se ne stanno andando tutti A fanculo Tranne quei due lì Che cercherò di evitare a tutti i costi Comunque là dentro ci sono anche persone ragazzi Io la vedo malissimo questa missione Comunque noi ci proveremo Perché che cazzo sce ne fonte È un gioco dai Siamo davvero vicissimi Ecco lo scopo di farmi salire qui sopra Io non so Se magari mi avvicino dietro Prendo quello Quello accanto mi vede Secondo me sì Quindi direi Di non scoprirlo Magari saliamo qui sopra Ci stiamo lentamente avvicinando all'obiettivo ragazzi Proverete a entrare qui dentro Ok Ragazzi mi sa che ho fatto malissimo A far cadere quel vaso Oh mio dio ragazzi No Cosa posso fare C'è uno qui Credo che sia lui Credo che sia lui ragazzi Che sangue freddo che ho avuto Non pensavo sinceramente Oh mio dio è conciato malissimo C'è Madonna ragazzi L'hanno fatto cieco Da dove le hai presi Quegli occhiali Scusami tanto Guarda che figo ma Dove vado Dove vado ma con questo se lo spavo Ok stanno svegliando Mi sembra Le persone stordite Che è sto Oio Ok Quelli stanno rientrando Quindi tecnicamente Io potrei anche scendere Da qui Eccolo là Vabbè per fortuna Non mi ha visto tanto Adesso corriamo malamente Intanto quelli Mo vanno là Dove mi hanno visto Ok ragazzi Mi sembra Che ce l'abbiamo fatto No Non ti buttare da qua Mi vibra tutto Moriremo Cos'è questa cosa Ok Eh dimmi Ok E io che faccio Con questo Tu le sballe Ma cosa stai dicendo Che mi lasci qui Prima mi dici Prendetelo Prendetelo Che cazzo Sono sti così Ragazzi Ho paura Che cazzo Che cazzo Non posso andare di qui Quelli si spostano Molto lentamente Ma restano sempre In quel punto Secondo me Ci devo passare Tipo tantissimi Vediamo se riesco A passare Ragazzi Niente Andiamo E corriamo tantissimo Ci siamo Pronti Via Oh my god Oh shit Corri Cavallino Non so che cosa sta facendo Il mio cavallo Giuro Vai cavallino Non Oh mio dio Ce li ho accanto Ragazzi Guarda sti stronzi Sono spaventadissima Vai cavallino Non ti fermare Ci siamo quasi Ragazzi Che cazzo Mi sono cagata addosso Ragazzi Tantissimo Ok Abbiamo preso Il tizio Ragazzi Mi sono spaventata Tantissimo Per qualcosa No Aspetta Ok No Io voglio stare Sull'elicottero Ok Ah che figo Tornerò a prenderti Guarda 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 Io li voglio sparare No Non posso Madonna L'episodio 1 Arti fantasma Ce l'abbiamo fatta A passarlo Ragazzi Grado C Non mi dici Come si fanno le cose Che cosa vuoi Che cosa vuoi Cosa posso fare Niente Cosa precedente No Successivo Direi di andare avanti Eroismo attuale 1004 L'evoluzione azioni Mi fa piacere Cos'è E' finito E' finito il gioco Ragazzi E' finito tantissimo Il gioco E quindi Basta Ok 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 ragazzi Penso che qui sia Il fulcro del gioco Comunque Ho il dubbio Dimmelo Però sinceramente Ragazzi Ok Siamo all'episodio 2 Diamond Dogs E bah Diamond Dogs Due volte Ok Credo che Siamo arrivati adesso Alla nostra Motorbise Alla nostra Casa Ah non c'è il piedino Gioia Mi dispiace tanto Eh E quindi Siamo arrivati No greater good No just cause Cause Cypher sent us to hell But we're going even deeper I know I'm already a demon Heaven's not my kind of place anyway Chi sono questi dizi? Si è incazzato Ma non suona bene comunque Brad Pitt ragazzi Brad Pitt Apprendi come gestire la mother base Però ragazzi io direi Nonostante comunque ci siano molte scene Che dovrò tagliare Preferisco che venga Ok adesso arrivo Va bene Fammi parlare un attimo Non disturbare Nonostante taglierò molte scene Comunque ho registrato mezz'ora Quindi ragazzi capite che L'altra volta più di 40 minuti Ma mezz'ora devo lavorare Mi fai parlare un attimo Quindi preferisco tagliare E poi fare un'altra puntata Siete d'accordo con me? Suppondo di sì Anche perché Brad Ti distruggerò Fammi finire la chiusura del video Per cortesi Detto questo ragazzi Il video può finire qui Io vi mando un grosso bacione E vi do appuntamento ai prossimi video Se questo vi è piaciuto Spolliciate Commentate Condividete E iscrivetevi al canale Se non l'aveste ancora fatto Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti